Perché se io voglio questi legnetti, li butto tutti nel fuoco a colpo con... Alessandro, dovrei parlarti in privato. Dici, dimmi, dimmi, dimmi. Volevo consegnarti questi. No, no, aspetta, che roba è questi? Cosa sono? Sono due canne. Non voglio rovinare la mia immagine di fronte alle telecamere. Che telecamere? Le ho tappate, quando le ho prese le ho tappate, non si vedono. Sì, però, cioè, stai attento anche te a fare queste cose, tu stai venendo... È che quando ho fatto le valigie non sapevo quello che sarebbe successo. Ho capito, però anche te tu vieni a fare un reality, tu porti queste cose, ora io non so. Però si cercherà di salvare la situazione, dai. Bene. Senti, poi, mai che sei qui ti volevo anche dire un'altra cosina. Ti volevo fare i complimenti per oggi, perché sei stata veramente brava. Grazie. Forse è quella la più brava di tutti. E poi ti volevo anche dire che te, in confronto a quell'altra, sei molto bellina. Grazie. Ma mi piaci tanto, tanto. Allora, buonanotte. Non andare via, perché le cose che ha detto a te non le ha mai dette a nessuno lui, e mai. A nessuno. Un po' tu gli piace qua, mi sembra di aver visto... C'è di una canna, ven via. Ma perché? A te se ti dessero un milione d'euro, non tu ci andresti, o un uomo. Se per quello io ci andrei anche per 500.000. Io anche per 100. Ragazzi, sarà meglio andare a letto, perché io 25 euro ce l'ho. Li posseggo, capito? Grazie.